Un incendio scoppiato nella notte in via Beato Luca Belludi nel cuore di Padova, a pochi passi dalla Basilica del Santo, ha completamente distrutto un piccolo negozio di abbigliamento, calzature e oggettistica, provocando anche il cedimento di una parete divisoria del locale. A innescare le fiamme probabilmente un'anomalia elettrica di un boiler, lo spegnimento dell'incendio ha tenuto impegnate per tre ore due squadre dei vigili del fuoco. A scopo precauzionale sono stati fatti evacuare gli alloggi vicini all'emporio cinese che andava a fuoco. I residenti hanno fatto rientro a casa dopo lo spegnimento delle fiamme.